Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Non ci vedo che è già finito. Perché piangi? Mi dispiace. Ho fatto un percorso. All'inizio sono stata male, ma ho detto a me stessa che devo farcela. E ce l'ho fatta. Vero in più, ti saluto, Zelda. Addio. Addio per sempre. Comunque... Dai, sono Zelda nobile. Matti. Amore mio. Mi mancherai. Salutarsi è bruttissimo. Comunque... Quando abbracci tutte le persone che sono state con te, ti vengono in mente tutti i ricordi. I primi giorni qui dentro, le prime litigate, le prime amicizie, i primi baci anche con Elisa. Ci vediamo fuori. Fammi sapere quando provo a venire a Roma, io aspetto. Ci vediamo? Beh, se stiamo insieme. Non lo so, fammi con te stiamo insieme. E allora... Da due classi di cui non ci conoscevamo nessuno, poi siamo uniti e ci siamo uniti proprio come gruppo. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Ehm... 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 Ehm...